Zaya conferma il trend in discesa dei dati dell'emergenza coronavirus, ma avverte non abbassare la guardia. Festa di San Bastiano a porte chiuse, l'appello del Vescovo Pizziola. Questa sera la cerimonia sarà su Rete Veneta. Domani chiude per lavoro il Ponte Vecchio, rimarrà chiuso fino al 12 febbraio. La provincia propone una soluzione al comune per mettere in sicurezza un incrocio maledetto. Alvia a Cittadella la seconda fase della campagna di vaccinazione anti-covid. Buonasera a tutti voi telespettatori, nuova edizione serale di Bassano Tg. Come avete sentito dai titoli trend in discesa per quanto riguarda i dati del coronavirus, come ci conferma anche l'aggiornamento di questa sera della regione Veneto dell'azienda Zero. Vediamo 613 totale dei casi positivi, quindi scorriamo subito i ricoverati. Una tabella con l'area non critica a meno 61, quindi 2.103 attualmente ricoverati in area non critica, meno 2 in terapia intensiva, quindi scendiamo a 316. Il delta di decessi comunque rimane sempre positivo, siamo a 30 decessi per quanto riguarda appunto l'aggiornamento del tardo pomeriggio di oggi. Quindi curva dei ricoveri in calo come avete anche appena visto, lo conferma anche il governatore Luca Zaia che però avverte come sia indispensabile proprio ora prestare la massima attenzione. Ormai è conclamato, la curva dei dati sanitari dell'emergenza coronavirus in Veneto è in calo. Lo conferma anche il presidente della regione Luca Zaia. Abbiamo un'immagine intanto di una curva che decresce, se vedete la curva delle terapie intensive si sta costruendo specularmente, prendete la curva, la tagliate a metà tra la fase di ascesa e quella di discesa, adesso vediamo proprio specularmente che segue la fase, in fase calante è praticamente speculare a quella crescente. Speriamo continui questo trend. La situazione delle ultime ore è importante dato che i ricoveri sono scesi sotto il valore massimo rilevato a marzo. Per quanto riguarda le terapie intensive. Il momento è critico, anche perché l'attenzione verso i comportamenti corretti da parte dei Veneti e l'arrivo dei vaccini sono due fattori che possono davvero far cambiare rotta a questa emergenza in modo definitivo. Se continuiamo con questo bel lavoro di attenzione che facciamo, che dobbiamo avere come cittadini è ragionevole pensare che se ne possa uscire e se a questo combiniamo il tema dei vaccini diciamo abbiamo ancora più tranquillità rispetto a questa uscita. E oggi 19 gennaio, festa di San Bassiano, patrono della città. Questa sera alle 21.15 Rete Veneta trasmetterà la cerimonia di consegna dei premi che per questa edizione 2021 ovviamente per ovvi motivi è avvenuta a porte chiuse. Intanto questa mattina il Vescovo Pizziolla ha ufficiato la Santa Messa in onora del Santo. San Bassiano in tempo di Covid tra le novità dettate dalle direttive sulla sicurezza che impediscono la consegna in presenza dei premi e la tradizione come la Santa Messa ufficiata dal Vescovo di Vicenza, Monsignor Beniamino Pizziolla che ha dato il via i festeggiamenti del Santo Patrono della città. Quello che fu il primo Vescovo di Lodi lavorò a stretto contatto con il Vescovo di Milano Ambrogio e contrastò assieme agli alti prelati della Chiesa Lombarda l'eresia a quegli anni assai diffusa. Nella giornata del 19 gennaio l'intera comunità bassanese gli rende onore momento culminante la consegna dei premi Cultura, Città di Bassano e San Bassiano a persone o gruppi che si sono particolarmente distinte negli anni portando un importante contributo alla città. La novità è che proprio la consegna, venuta a porte chiuse, verrà trasmessa su Rete Veneta alle 21.15. Monsignor Pizziolla nella sua omelia ufficiata in via straordinaria in una gremita seppur nel pieno rispetto delle norme anti-covid Chiesa di San Francesco ha parlato dell'importanza di festeggiare San Bassiano in questo periodo di pandemia perché proprio il patrono di Bassano fu venerato come santo protettore delle pestilenze e delle carestie. Quest'anno ha un rilievo particolare da questa pestilenza chiamata pandemia da coronavirus, covid-19 e allora il santo attraverso la testimonianza, la vicinanza alle persone, la solidarietà con le persone è riuscito a superare nel suo tempo queste pestilenze e diventa per noi un esempio di dedizione agli ultimi. La mancanza anche del contatto umano proprio in questo periodo, però che messaggio si può mandare alle persone? Ma io direi che quando viene meno la possibilità dell'incontro anche così, volto, mani, sorrisi, dovremmo recuperare ancora di più la vicinanza spirituale. E vi ricordo quindi questa sera 21.15 su Rete Veneta la consegna dei premi. Intanto oggi abbiamo anche incontrato l'autrice del logo dell'edizione 2021 di San Bassiano. La bassanese Maria Luisa Parolin è l'autrice del logo dell'edizione 2021 di San Bassiano, un effigie che è stata ripresa anche in un segnalibro distribuito ai fedeli, con sul retro la preghiera al santo patrono, scritta dall'abate di Bassano, don Andrea Guglielmi. Ma è proprio l'artista che ci spiega il senso del suo lavoro. L'immagine che ho disegnato col colore oro è per dare importanza al valore che questo santo ha per la nostra città. Poi l'azzurro, è l'azzurro del cielo, celeste, e quindi della sacralità. Il rosa della tenerezza, perché questo uomo, prima poi vescovo e santo, era molto vicino alle persone ammalate e anche agli animali. E il verde che è il del terreno, siamo noi. Ponte Vecchio chiuso da domani fino al prossimo 12 febbraio per completare i lavori di restauro. 19 gennaio 2021, ultimo giorno di apertura del Ponte Vecchio, prima della lunga chiusura per permettere la posa della pavimentazione e di tutto quanto l'impianto di illuminazione. Come vedete da questo cartello, Ponte degli Alpini resterà chiuso dalle 8 del 20 gennaio, quindi dalle 8 di domani, fino alle 17 del 12 febbraio. Sono più di 20 giorni di totale chiusura del Ponte Vecchio, appunto per permettere di ultimare il restauro. C'è da dire che se da un lato i lavori stanno proseguendo in maniera molto celere, rapida, grazie appunto agli operai della Inco di Pergine e Valsugana, d'altro canto ci saranno non pochi disagi in questi 20 giorni di chiusura. Tra l'altro vogliamo ricordare che proprio da domani, dal 20 gennaio, partirà il bus navetta che è stato allestito da e per Angarano Centro per permettere alle persone, soprattutto agli anziani e residenti anziani, di raggiungere il centro senza dover fare il giro molto più lungo per attraversare, quindi attraversando il Ponte Vecchio e il Ponte della Vittoria per arrivare al centro. Quindi ci sarà questa agevolazione soprattutto per i residenti, le fasce più anziane dei residenti che abitano in zona Angarano e che vogliono arrivare al centro storico di Bassano. E a due mesi esatti dall'inizio della posa della nuova pavimentazione sono ancora da eseguire le prove di laboratorio del nuovo materiale e da trovare anche i siti di estrazione delle pietre del Brenta che verranno utilizzate. Mancano due mesi esatti all'inizio della posa della nuova pavimentazione in pietra del Ponte Vecchio e il Comune deve imbarcarsi ora in una serie di prove di laboratorio e di sopralluoghi sul greto del Brenta per trovare la quadra sul materiale da utilizzare. Tutto nero su bianco in un provvedimento varato pochi giorni fa dall'amministrazione di Elena Pavan che si trova a dover fare delle verifiche sul terrazzo non lucidato che finora solo noi di Rete Veneta abbiamo avuto l'onore di farvi vedere. Bisognerà infatti procedere con la predisposizione di idonee e campionature della pavimentazione con prove di carico e flessione da realizzarsi in laboratorio. A queste prove vanno associate l'assistenza tecnica e la ricognizione nelle sedie estrative per la scelta degli inerti. In parole povere bisogna andare a scegliere i sassi del Brenta da utilizzare per il battuto simil terrazzo. Andrà poi eseguito un approfondimento tecnico sulla scelta dei materiali leganti e la verifica dei sistemi di posa e applicazione. Insomma un bel po' di adempimenti che a due mesi esatti dall'inizio della posa della nuova pavimentazione lasciano un po' perplessi per la tempistica. Per non parlare della spesa complessiva che supera i 17.000 euro. Poi non che noi si voglia fare gli spioni ma la sovrintendenza che pure ha dato via libera per la pavimentazione in pietra. Lo sa e soprattutto ci si chiede non è che con il progetto del legno già instradato e benedetto cinque anni fa anche dagli attuali esponenti della giunta di Elena Pavan si sarebbe potuti arrivare alla fine dei lavori molto prima e senza ulteriori spese? Casi in classi in isolamento dopo il rientro delle vacanze natalizie così come dispone la nuova ordinanza regionale. Nel Bassanese sono quattro i casi ma non c'è da allarmarsi come spiega il direttore del servizio igiene dell'Ulsset. Covid e scuola con l'ordinanza regionale che ha cambiato la gestione dei casi positivi a scuola obbligando all'isolamento le intere classi in presenza anche di un solo contagio in tutto il Veneto dal rientro dalle vacanze di Natale sono circa 200 le classi di asili elementari e medie poste in quarantena e anche nel territorio dell'Ulsset e Pedemontana si sono verificati alcuni casi come ci spiega il direttore del servizio igiene e sanità pubbliche Edoardo Chiesa che però parla di dati non allarmanti vengono messe direttamente in isolamento per 10 giorni facendo il tampone rientro per verificare l'assenza di casi positivi come numerosità nel distratto 1 abbiamo dalla ripresa quattro classi che sono state interessate tre studenti e un insegnante mentre nel distratto 2 dove c'è una maggiore incidenza di positivi la situazione lì sono circa una ventina tra studenti e operatori scolastici che sono risultati positivi dopo la riapertura delle classi E di conseguenza le 20 classi in isolamento? Sì esattamente Lei non definisce questi numeri allarmanti? No per il momento assolutamente no è in sintonia con l'andamento della curva epidemica della prevalenza del virus che tocchiamo a ferro in questi ultimi giorni sta diciamo così diminuendo E si è conclusa con un nulla di fatto della discussione della mozione di riserva presentata dalla minoranza in consiglio regionale del Veneto nei confronti dell'assessore Veneto all'istruzione al lavoro Elena Donazzan per il caso Faccetta Nera L'assessore ha portato le sue scuse in aula ma la seduta ordinaria del consiglio è stata molto tesa fino alla votazione finale che ha di fatto fatto decadere ogni possibilità di dare seguito alla mozione delle minoranze Parliamo ora di cestini pubblici traboccanti di rifiuti in via Bondoli a Borso del Grappa Cittadini indignati e amministrazione comunale pronta per il giro di vite Le cattive abitudini evidentemente non passano Tante sono state le segnalazioni arrivate al sindaco di Borso del Grappa a Flavio dall'Agnol da parte di cittadini contrariati nel vedere i cestini pubblici traboccanti di rifiuti domestici L'amministrazione fa sapere che da un recente sopralluogo sono emersi importanti documenti personali racchiusi all'interno di buste indifferenziate In collaborazione con Contarina ente gestore della raccolta dei rifiuti il Comune sta procedendo a controlli incrociati di ogni singolo utente residente numerose le anomalie riscontrate finora E vi ricordo quindi di chiamarci se vedete altre situazioni di degrado di immondizia attraverso il nostro Tg Linea Aperta quindi vi ricordo il numero 340-321-8379 Andiamo ora a Marossiga per un incrocio maledetto teatro di molti incidenti Lo scorso ottobre vi avevamo raccontato di un sedicenne ferito e delle difficoltà anche del Comune di trovare una soluzione che ora, grazie all'intervento della provincia, diventa realtà Mercoledì 30 settembre 2019 le 7.30 del mattino a Marostica lo scooter con a bordo un sedicenne diretto a scuola si scontra con un'auto un terribile schianto il giovane rimane a terra e guarisce solo dopo due giorni in rianimazione e mesi di cure noi di Rete Veneta avevamo raccolto la testimonianza del papà che lanciava un appello al Comune per rendere più sicuro quel tratto di strada un intervento che sembrava molto difficile da realizzare Quell'incrocio è stato di fatto segnalato da me a Rete Veneta qualche anno fa è stato segnalato all'amministrazione, agli assessori alla fine anche il quartiere aveva già segnalato quell'incrocio però alla fine nessuno si interessa di quell'incrocio sono stati fatti tantissimi altri lavori e là capitano sempre incidenti Ora dopo l'interessamento della provincia e del suo delegato per la viabilità l'incrocio tra via Monteferro, via 4 Novembre e via Panica tra due strade provinciali e una comunale sarà messo in sicurezza la situazione è stata studiata da un punto di vista tecnico ed è stata trovata una soluzione Sarà possibile fare un incontro per riprendere questa questione che era stata tempo fa chiusa senza possibilità di soluzione cercando una soluzione tecnica che tenga insieme l'esigenza della sicurezza con la fattibilità dal punto di vista proprio diciamo stradale e dei rapporti con il territorio e circostanze La prossima tappa sarà un incontro tra la provincia e il sindaco di Marostica per avviare progetto e realizzazione del nuovo incrocio Nei prossimi giorni anzi ci sarà un incontro tra la provincia attraverso viabilità e il comune di Marostica per affrontare tecnicamente una soluzione possibile per mettere in sicurezza quell'incrocio pericoloso con delle formule anche un po' più elastiche di una sola grande rotatoria ma con delle soluzioni miste che permettano appunto la fattibilità tecnica la messa in sicurezza e anche la compatibilità con l'assetto territoriale esistente Ed ora una buona notizia per gli appassionati della neve con la firma di una convenzione il centrofondo Valmaronna sarà aperto fino al 30 aprile Prima due aste andate deserte poi una vera montagna di neve caduta ma senza che nessuno si occupasse di preparare le piste da fondo Con la firma lunedì 11 di una convenzione tra il centrofondo Valmaronna e il comune di Enego l'attività è potuta ripartire È una convenzione che prevede appunto la riapertura del centrofondo che viene assegnato per quel che riguarda le piste e quindi la battitura delle piste al centrofondo che sono gli attuali quelli diciamo i passati gestori quelli attuali gestori diciamo mentre la struttura viene assegnata sempre in convenzione per un periodo anche questo limitato al 30 di aprile all'associazione Maestrisci di Fondo di Enego I 200 chilometri di piste attraversano scenari incantati vero paradiso per gli appassionati della disciplina che potranno sfruttare già questo generoso inverno Per quest'anno fino al 30 di aprile il centrofondo è riaperto e a pieno regime La situazione però non è semplice per tutti Per qualcuno è arrivata un po' al limite perché potrebbe trovarsi anche potremmo trovarsi in situazioni in cui qualcuno deve mollare E niente, rientro a casa per le famiglie di Gallio evacuate a causa della slavina di due settimane fa L'ARPAV dice che la zona non è ancora sicura Una nuova ordinanza di sgombero è stata disposta per le due famiglie galliesi di Contrada Schivi a causa della valanga che due settimane fa le aveva costrette ad abbandonare le loro case Un nuovo sopralluogo da parte dei tecnici del soccorso alpino e dell'ARPAV ha rilevato che la situazione non sia ancora stabilizzata consigliando così al sindaco di Gallio Emanuele Munari di emanare la nuova ordinanza Gli sfrotti sono ancora fuori perché effettivamente anche ARPAV non si è espressa quindi nessuno in pratica ha dichiarato il rientro di questo pericolo di questa slavina quindi io in maniera ovviamente precauzionale e preventiva ho immediatamente riconfermato lo sgombero per le persone coinvolte mi dispiace per loro comunque sono alloggiato in un albergo E si è spento all'età di 98 anni Giuseppe Muraro storico fondatore 50 anni fa dell'associazione Gruppo Volontari case di riposo Sturma di Bassano persona molto attenta e vicina ai bisogni dei più deboli ha fatto anche del volontariato la sua missione di vita e in mezzo secolo centinaia di bassanesi lo hanno anche affiancato il funerale di Giuseppe Muraro si terrà giovedì 21 gennaio alle 15 alla chiesa di Santa Croce Parliamo ora di servizio civile universale con Alvia la nuova edizione il comune di Bassano cerca 30 volontari Servizio civile il comune di Bassano cerca 30 volontari tra i 18 e i 28 anni per lavorare a 4 progetti in ambito culturale in un momento così difficile l'opportunità è quella di una collaborazione di un anno a 440 euro mensili al lavoro ci sono già 9 ragazzi a cui potranno giungersene altri 30 che dovranno presentare domanda entro l'8 febbraio questi ragazzi sono dai 18 ai 28 anni lavoreranno negli uffici dove si lavora a livello culturale quindi biblioteca, archivio ma anche negli uffici socioeducativi quindi istruzione e sociale è una grande opportunità per questi ragazzi perché potranno affinare le loro competenze ma sarà anche una linfa nuova per i nostri uffici perché con 40 ragazzi potranno dare veramente anche una spinta ai nostri uffici che si trovano in questo momento chiaramente un po' in difficoltà visto le problematiche date dall'epidemia e anche a Cittadella sono iniziate ufficialmente le somministrazioni di richiamo dei vaccini anti-covid agli operatori sanitari che hanno già ricevuto la prima dose di vaccinazione sono i figli del VDAI sanitari che il 27 dicembre scorso si sono sottoposti alla prima dose di vaccinazione contro il covid e oggi oltre all'ospedale di schiavonia anche quello di Cittadella ha iniziato a somministrare la seconda dose ovvero il richiamo per oltre un centinaio di operatori sanitari all'ospedale di Cittadella fra i vaccinati di oggi anche il dottor Natalino Simioni responsabile del reparto di medicina a Cittadella e il dottor Giuseppe Marinaro che riveste la carica di direttore del pronto soccorso di Campo San Piero Sport in casa questa sera con Alex Iuliano alle 20 si continua a parlare di ripartenza oppure di annullamento dei campionati di calcio per i dilettanti arrivano importanti novità dalla Federazione dei Medici e ne parleranno proprio questa sera in studio il Fabio Pozzato direttore sportivo dell'Azzurra San Drigo e l'attaccante Andrea Maita 21.15 vi ricordo la cerimonia della consegna dei premi dedicati al Patrono San Bastiano vi lascio ora le previsioni del tempo di domani per questa nostra edizione il nostro telegiornale termina qui grazie a tutti voi di essere stati in nostra compagnia arrivederci porta in tavola la dolcezza dei prodotti di Cherubin inizia la tua giornata con le nostre maxi brioche a un euro gusta le frittelle fresche Castellan a 16 euro e 90 al chilo benvenuti al meteo cambia la circolazione atmosferica giovedì una perturbazione colpirà il nostro territorio ma già mercoledì ci saranno le prime avvisaglie di questo imminente mutamento del tempo vediamo il dettaglio del 20 gennaio sul Veneto il cielo si presenterà piuttosto grigio e nuvoloso come vediamo al mattino sarà possibile anche qualche foschia o nebbia talvolta fitta sarà bassa la probabilità di locali piovaschi ma non del tutto da escludersi temperature in lieve aumento per quanto riguarda i valori minimi che saranno sopra lo zero dappertutto massime invece tra i 3 e i 6 gradi vediamo ora come sarà la previsione per Bassano del Grappa anche sul nostro territorio avremo i primi segnali di un tempo che va peggiorando in questa giornata il cielo sarà coperto dappertutto tuttavia non sono attese per ora piogge particolarmente degne di nota dal meteo per ora è tutto vi auguro un buon proseguimento con Rete Veneta le promozioni continuano da Cherubin specialità di capra fresche e stagionate a 9 euro e 90 al chilo cotto gran verdi di Parma 15 euro e 90 al chilo Cherubin via Gobbi a Bassano Grazie a tutti